play the games special olympics la spezia 2023 700 atleti 500 volontari delle scuole spezzine 250 familiari 150 tecnici in questi giochi è stata superata ogni barriera abbiamo condiviso momenti indimenticabili in cui la parola disabilità non è esistita ogni atleta ha affermato il proprio talento e il cuore pulsante di ogni volontario le ha resi unici che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa adentrare con tutte le due forze specialmente aperti il play the game 2023 la spezia special olympics evviva ovunque ci troviamo siamo pronti a rivivere immense emozioni che solo i nostri atleti sanno regalarci un valore che dobbiamo assolutamente coltivare in eventi come questi dove si conosce la diversità attraverso lo sport mezzo meraviglioso di vera inclusione ovunque ci troviamo 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 con questi giochi avete dimostrato le vostre abilità e i vostri talenti con questi giochi avete dimostrato le vostre abilità e i vostri talenti e che tutto è veramente possibile ciao 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 �